Beh, ragazzi, non so bene come dirvelo, ma domani siamo già alla vigilia del ritorno della Juventus in campo. Oggi è una giornata storica, perché comunque conosceremo l'altra finalista di Qatar 2022. La prima è l'Argentina, l'Argentina di Leo Messi, che ora ha la seconda chance in carriera di alzare una Coppa del Mondo dopo aver perso dalla Germania ben otto anni fa con quel gol di Mario Gozze. Fa strano pensare alla Germania che vince col gol di Gozze, perché poi Gozze ha avuto una storia un po' travagliata, dopo un inizio ottimo di carriera in cui si pensava potesse fare davvero un percorso differente da quello che poi è stato. Gozze decide una finale di Coppa del Mondo e poi si perde un pochettino. Igué insegnava addirittura il gol di vantaggio in quella finale per poi vederselo annullato per fuori gioco. E Messi si doveva accontentare del secondo posto in classifica a un mondiale. Oggi, anzi domenica, ha l'ultima opportunità in carriera di giocare appunto una Coppa del Mondo e quindi di vincerla e di completare l'ultimo tassello che gli manca nel calcio ad alti, altissimi livelli. Perché è ovvio che Messi ha già collezionato un numero incredibile di pallone d'oro, ha già vinto un numero incredibile di Champions League, ha vinto una Coppa America con l'Argentina che è l'equivalente dell'europeo per le nazionali europee. Gli manca soltanto il mondiale. Pochi giocatori sono riusciti a vincere pallone d'oro, Champions League, mondiale e appunto europeo barra Coppa America. Me ne vengono in mente un paio soltanto a livello europeo che sono Zidane e Gerd Müller del Bayern Monaco. Per quanto riguarda i suoi americani probabilmente c'è stato un po' di più ma stiamo parlando veramente di una cerchia molto 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 ristretta. Nella quale tra l'altro non rientra neppure Ronaldo il fenomeno perché Ronaldo il fenomeno, non CR7 ma Ronaldo brasiliano, non ha mai vinto la Champions League. Era nella rosa del Milan nel 2006-2007 quando l'hanno vinta ma non era in lista Champions perché era arrivato a gennaio da Real Madrid quindi non poteva entrare in lista Champions. Quindi Ronaldo non rientra all'interno di questa cerchia, ristretta, ristrettissima. Quindi vediamo se sarà Messi possibile il protagonista o se sarà il Marocco, campione del mondo perché in questo momento solo tre squadre potranno vincerla. Il Marocco, campione del mondo, è ancora il più incredibile di gozze. O se Mbappé riuscirà a vincere il suo secondo mondiale di fila a vent'anni suonati. Sarebbe veramente qualcosa di incredibile. Ci sono veramente tanti incastri possibili. La Juventus porta due giocatori in finale di Coppa del Mondo, almeno due perché possono essere tre con Rabiot, Di Maria e Paredes. Un ex giocatore, Paolo Di Bala, che ha fatto un ottimo percorso all'interno della Juventus e vedremo se anche Rabiot andrà a giocarsi la finale. Se la Juventus avrà almeno un campione del mondo in rosa da qui a giugno perché poi i contratti di Di Maria e Rabiot andranno in scadenza e vedremo se andranno ad essere rinnovati, discussi, se ci sarà qualcosa. Intanto ieri, ragazzi, c'è stata una novità perché la Procura di Torino ha rinunciato alle misure cautelare nei confronti degli indagati, quindi Andrea Agnelli e altri, e del club. Questo non significa che in questo momento la Juventus abbia completato questo percorso, non significa che sia stata assolta, non significa che la questione sia stata archiviata, no, ma in questo momento non vi è la possibilità di pericolo, di reiterazione del reato, quello che avevamo detto comunque da un po' di tempo alla domanda perché si sono dimessi per questo motivo qui, per non rischiare la reiterazione del reato, anche se poi il GIP aveva già annunciato l'assenza di preco di reiterazione del reato a ottobre. La Procura di Torino rinuncia appunto a scontrarsi col GIP per questa cosa e vedremo tra febbraio e marzo se ci sarà appunto un proseguo della faccenda, se si andrà a discutere ulteriormente, ma non significa che in questo momento sia tutto concluso, io ho già detto, ah, Tarlucevino e quei là, e ovviamente perché se la Juve risulta colpevole, allora ha giustizia fatto il suo corso, la Juventus risulta innocente e Tarlucevino. Questo è un po' il riassunto di quello che mi è capitato di leggere un po' sui social. Tranquilli, potete ancora sperare che la Juventus possa essere colpevole, quindi avrete modo di continuare a sperare questa cosa, ma la Juventus torna in campo perché prima dicevamo che appunto domani sarà già vigilia, vigilia di un amichevole che è poco, forse niente, però è già qualcosa perché la Juventus ci manca e se ieri vi dicevo che iniziava a essere una buona notizia la possibilità di parlare di assenti perché significa che effettivamente sta tornando il campionato, beh, oggi è un po' più complicata la questione perché ieri comunque Chiesa ha interrotto l'allenamento, a quanto pare era un'introduzione prevista per fare alcuni trattamenti all'interno, immagino in palestra o comunque in una sala di vita, massaggi o robe del genere, non lo so, vediamo che cosa ne viene fuori. Ieri parlavamo di Vlaovic con questo problemino legato alla PUBG, abbiamo un quadrado che non è al 100%, ma soprattutto, dato che ieri avevamo iniziato il video sparlicchiando un po' di Pogba, ce la conferma, a quanto pare Pogba per un altro mese sarà fuori, un altro mese, un altro mese. Ne riparleremo tra fine gennaio, metà gennaio, inizio febbraio, però ragazzi, come si fa a continuare ad andare avanti in questo modo? Veramente così, veramente complicato. Allora, fermo restando che Miretti e Fagioli secondo me stanno facendo di tutto per sostituire Pogba, anche lo stesso Paredes che ieri sera comunque ha giocato la titolare in una semifinale di Coppa del Mondo dopo essere stato un po' messo ai margini dell'Argentina, sembra essere stato scavalcato comunque nelle giro dell'archia, la Juventus ha trovato una quadra con un centrocampo titolare nelle ultime partite con Locatelli, Fagioli e Rabiot e credo che si dovrà continuare sotto questo punto di vista, sempre che ovviamente poi anche Rabiot possa tornare in forma, dato che farà una preparazione molto scarsa. Stasera gioca la semifinale di Coppa del Mondo, se sabato gioca la finale vuol dire che deve avere a disposizione un po' di tempo per le vacanze, stiamo parlando praticamente di... siamo intorno al 27-28, facciamo primo gennaio, beh il 3 non gioca, per intenderci, quindi probabilmente senza Pogba e senza Rabiot, quasi al 100% per la prima partita con la Cremonese e credo che lo stesso destino quindi tocchi anche a Paredes per lo stesso motivo e quindi anche a Di Maria per lo stesso motivo, bene o male, dato che comunque ci sarà la finalina terza-quarto posto, anche per Rabiot sarà così, quindi immagino che i tre giocatori della Juventus sono ancora impegnati nella fase finale mondiale e Pogba, perché stiamo dicendo che per un altro mese sarà fuori, beh non ci saranno, quindi è ovvio che Locatelli sarà uno dei candidati a essere titolare, Fagioli stesso, vediamo chi potrà essere l'altro, se McKennie, se Miretti, se qualcun altro ancora, non lo so, vediamo un attimo cosa succede, ma la Juve riparte già in emergenza, infatti a me fa un po' sorridere perché ricordo quando dicevamo, oh, meno male la pausa, così almeno recuperiamo qualche infortunato, non la voglio perché in questo momento siamo in striscia positiva, stiamo vincendo sei partite di fila, però almeno ricoperiamo gli infortunati, almeno torniamo a gennaio effettivamente con la Juve a disposizione, eccoci qua, eccoci qua, siamo già qui che mancano 17 giorni al 31 di dicembre, più altri tre, mancano 20 giorni a Juve Cremonese, siamo già qui che facciamo i conti, diciamo questo non c'è di sicuro, questo non c'è di sicuro, questo non c'è di sicuro, questo chissà, questo ha dei problemi, questo da valutare, questo fuori un altro mese, ragazzi così diventa complicata, questa stagione veramente è una montagna russa, si è partiti pensando che si potesse far bene, si è poi proseguiti con il disastro, si è affondati nell'oblio, si è arrivati al mondiale invernale, una roba assurda, dicendo però adesso qualcosina si vede, non siamo ancora pronti, però dai meglio che niente, poi c'è stato il discorso delle dimissioni, eventualmente un processo, adesso il mondiale che sta finendo, quindi magari qualche giocatore deve vincere la Coppa, però alcuni saranno assenti, e quando tornano alcuni sono infortunati, madonna, ma che stagione è? Ma che stagione è? Veramente non... Stanno succedendo tutte, tutte quelle che possano accadere, vengono concentrate abbondantemente all'interno di questo 2022-2023. Ragazzi, a me Pogba... Io ero consapevole dei problemi di Pogba, e anche tante volte abbiamo fatto questo ragionamento sul canale, anche l'anno scorso, quando si parlava di Dybala, ha senso dar via Dybala per problemi fisici, per prendere Pogba che ha problemi fisici, però non pensavo fino a questo livello, addirittura si pensava che Pogba potesse giocare il mondiale, che quindi questa operazione, questa terapia conservativa, potesse permettere di giocare il mondiale, ma questo rischia di tornare a febbraio, si è fatto male a luglio, a luglio si è fatto male, ha fatto un amichevole Pogba con la Juventus, contro cos'era il Civas, e poi caput, caput, si è rotto in America, mai più tornato a correre. Questa cosa sinceramente mi... Io ricordo anche il video di Pogba, che torna da quel consulto in Francia, dove da zuppicare, mi preoccupo e mi dico, no, sta facendo apposta. Eh, stava facendo apposta, a Tostà che ancora non cammina, non corre, non è pronto per giocare, quindi magari faceva apposta, però forse se l'ho un po' tirata, e fa anche ridere il discorso, perché dicevamo nella stagione successo di tutto, il discorso del marabutto, del discorso con Bappé, delle stregonerie. Veramente, quest'anno stiamo superando ogni limite, io credevo di averlo superato abbondantemente, con un esame di italiano da fare a un giocatore, per poterlo tesserare, o con McKennie e Pulisic, che non si parlano per via della sorella, di quest'ultimo. Insomma, parlando di calcio, si aprono tante strade, tanti spiragli, tante cose anche abbastanza curiose, inedite, che non pensavo di poter raccontare, ma siamo qua, anche per questo. E quindi ragazzi, appuntamento stasera con Francia Marocco, che a me sarà una partita anche a rischio, per tutto quello che ne deriva da questa sfida. Speriamo che vada tutto bene, speriamo che possa esserci una finale di Coppa del Mondo entusiasmante, chi spero. Francia a me non sta troppo simpatica, ve l'ho già detto tante volte, però un Bappé mi piace, è tanto, è veramente tanto. Quindi sarebbe insieme a Rabiot, veramente l'unico giocatore, per cui potrei essere contento, lato Francia. Lato Argentina, probabilmente c'è qualcosina di più, perché Messi mi piacerebbe vederlo vincere un mondiale, Di Bala mi piacerebbe vederlo vincere un mondiale, Di Maria Paredes, non mi hanno conquistato in questi primi mesi di Juve, ma sempre della Juve fanno parte, quindi meno male sarebbero i giocatori per i quali potrei essere contenti entrambi, e il Marocco sarebbe veramente incredibile pensare che il Marocco possa vincere una Coppa del Mondo, o giocare una Coppa del Mondo, quindi comunque questo mondiale ci sta regalando delle storie, le storie entrano di diritto appunto nella storia del calcio, che viene scritta comunque. Non so come concludere il video, ci sono tante cose da dire, però non voglio stancarvi perché capisco che video lunghi in questo momento in cui ci sono poche notizie, a me piace parlare, è inutile ragazzi, sono fatto così, lo sapete, ci vediamo domani per qualche chiacchiera in più, e vediamo chi sarà l'altra finalista insieme all'Argentina.